un saluto ad entrambi è stato complicato è andare in diretta su entrambi i social intanto prima cosa come come state cominciò federico come stai periodo di vacanza no è più o meno dai è quest'anno quest'anno è vacanza però siamo a fine aprile anche quest'anno siamo dietro a dpcm e quant'altro perché come ormai in tanti sanno inizio giugno di e grete ci sposeremo però siamo ancora lì di nuovo come l'anno scorso abbiamo detto ma si rimandiamo di un anno così almeno riusciamo a fare tutto cerimonia festa con tutti gli invitati è invece passato un anno purtroppo siamo più o meno nella stessa situazione però qualsiasi cosa dovesse succedere il 5 giugno ci sposiamo io e lei in chiesa e poi vedremo se si potrà anche festeggiare subito o quando si potrà fare lo faremo peraltro primo riferimento alla russia ieri si è sposato proprio bolshunov visto anche le immagini loro hanno fatto una visto allora va detto pochi intimi è sembrata da loro si può io penso che se lo facciamo noi un matrimonio così di questi tempi penso che non sarebbe proprio l'opportunità loro si può beati loro fortunati loro che sono riusciti a mandare in porto il primo tentativo e allora io mando adesso che saluto a francesco come stai anche a te stessa domanda sì tutto bene anch'io siamo in un periodo così di transizione pronti per iniziare perché ormai quasi ora siamo alle porte della nuova stagione peraltro francesco festeggiato il compleanno il 21 aprile proprio nel giorno dell'annuncio che è stato fatto ufficiale di questa decisione insomma quindi credo che è passato il compleanno quasi al telefono immagino perché avrà ricevuto una coincidenza un regalo di compleanno è stato un po' particolare ecco ovviamente ricordiamo cosa è stato annunciato praticamente in questa stagione federico pellegrino e francesco dei fabiani si alleneranno in estate e ovviamente autunno faranno tutta la preparazione insieme al gruppo kramer della nazionale russa perché la russia come sapete si allena in diversi gruppi per esempio ustugov è nel gruppo kramer mentre bolshunov è nel gruppo borodavco quindi hanno diversi gruppi loro si alleneranno con il gruppo kramer che comprende tra gli altri appunto ustugov retiwik peraltro devo dire entrambi hanno condiviso con federico pellegrino un podio ai mondiali perché chi nel 2017 chi nel 2019 insomma c'è anche julia stupac che abbiamo visto fare una grandissima stagione e allora io partirei appunto anche da come è nata questa decisione comincio con con federico cosa ha portato appunto a questa scelta come è maturata questa scelta ma diciamo che la stagione 2020 2021 ci ha ci ha messo a dura prova fin dalla fin dalla primavera per causa pandemia anche noi abbiamo dovuto riadattarci a a questa nuova vita e quindi cercare fortunatamente fortunatamente ne avevamo la possibilità di lavorare però con i nuovi i nuovi paletti le nuove regole e questo ha fatto sì che sia stata quella invernale una stagione molto tosta dal punto di vista fisico come sempre però soprattutto dal punto di vista mentale e purtroppo dal 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 comparto italiano in toto diciamo così sono arrivati non sono arrivati i risultati sperati anche perché nel mese di dicembre la coppa del mondo di scilifondo è stata orfana di alcune nazioni e tra quelle più importanti diciamo la norvegia la svezia la finlandia poi il tour de ski ci sono riviste la la svezia e la finlandia e quindi ci si aspettava qualcosa di più diciamo da tutto il team personalmente qualcosa è arrivato perché una coppa del mondo con varie vittorie e podi sono arrivate però eh siamo arrivati ai mondiali mondiali eh senza medaglie sicuramente non sono state non sono stati come ce l'auguravamo detto ciò eh siamo arrivati a fine stagione e poi è arrivata la 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 decisione da parte di Selle di Marco Selle e della federazione di interrompere il il lavoro insieme e quindi cosa è successo? È successo che ci siamo trovati a dover ragionare iniziare a ragionare su un futuro diverso perché una riorganizzazione ehm andava fatta e e quindi e quindi abbiamo dovuto iniziare a pensare a a come poter portare a termine questo quadrienne olimpico che per forza di cose doveva essere diverso da come da come era partito. E quindi da lì appunto questa decisione io chiedo a questo punto a Francesco eh perché eh si è scelta proprio la 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 Russia ormai si è come si è arrivati alla scelta proprio di di Kramer di allenarsi con un allenatore diverso eh ovviamente da quelli delle staff tecnici italiani si è scelto allenatore tedesco Marcus Kramer e si è scelto un gruppo che appunto comprende Ustugov e gli altri. Ma sì perché è da anni che si parla di fare un'esperienza internazionale di farsi allenare da e vedere che cosa succede all'estero eh perché eh innanzitutto eh innanzitutto l'allenatore estero che conosciamo di più era anche l'unico che probabilmente avrebbe accettato una proposta del genere e perché anche eh abbiamo già fatto degli allenamenti insieme al suo team quando ci siamo trovati nello stesso posto in Finlandia o per esempio a Ramsau è successo più volte nelle passate stagioni anche perché Stefano Saracco e Kramer eh sono sempre andati abbastanza d'accordo quindi hanno anche avuto una hanno una visione del del programma diciamo eh abbastanza simile quindi non è una una scelta che si discosta troppo da quello che siamo abituati a fare però ci dà magari una ventata di di novità e di eh di di spunti per per riuscire a iniziare a questa stagione eh importantissima questa olimpica che che in questo modo riusciremo a secondo me a a dare il massimo ed arrivare a spero alle olimpiadi al massimo del del mio potenziale di di sempre. Ecco eh peraltro ricordiamo questa non sarà una diretta fiume come abbiamo fatto anni scorsi lunghissimo insomma è proprio per dare un modo visto che insomma c'è stato giustamente il comunicato della fisica e tutto però voi due avete detto poche cose ancora anche per dare una spiegazione visto che avete letto anche voi ovviamente non tutti hanno reagito eh insomma qualcuno magari ci è rimasto male per questa per questa scelta però a proposito di reazioni io eh quando mi era arrivata un po' cominciava a girare questa voce poi anche quando è arrivata l'ufficialità io devo dire che lì per lì per un attimo sono rimasto eh dico questo a Federico sono rimasto sorpreso nel senso che ho detto ma perché la Russia dovrebbe allenare Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani che sono due che potrebbero potenzialmente ce lo auguriamo togliergli magari la medaglia in una team sprint olimpica ad esempio no? Eh ho detto ma mi pare mi sembra strano che Vialbe magari accè invece poi vedo che anche Vialbe era molto contenta di di questa cosa ti chiedo un po' anche le reazioni che ci sono state anche dalla squadra ma diciamo che dopo aver pensato eh diciamo così l'idea eh abbiamo abbiamo chiesto a Kramer la fattibilità e lui eh ci ha subito detto che doveva chiedere ai suoi atleti e poi alla Vialbe il 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 parere positivo e questo è stato dato e nel frattempo noi avevamo anche cercato di avere anche noi qualche un po' un certo tipo di supporto dopo l'ok della Vialbe eh è stato proposto al presidente e alla direzione agonistica che hanno accettato questa questa nostra proposta eh sul perché io non non ho troppi dubbi perché comunque sia eh si sa tutti lo sanno che gli atleti forti messi assieme possono soltanto che migliorare non per niente team come quello norvegese eh riesce a far sì che è un atleta che entra nel team magari non eh riuscendo a esprimersi ancora a al massimo del suo potenziale a a migliorare a migliorare tanto i forti con i forti migliorano tanto e e quindi questo penso che che sia la cosa che che ha subito fin da subito apprezzato la Vialbe la possibilità di un confronto costante diretto per tanto tempo per tanti mesi tra atleti forti che possono far crescere la la condizione di entrambi è un rischio che ci assumiamo tutti a noi piacciono le sfide come noi sappiamo che eh allenandoci con i russi possiamo migliorare sappiamo benissimo anche noi che allenandoci con i russi possono migliorare anche loro però poi in gara chi più ne ha più ne metta e vince poi il più forte. Ah quello quello sicuramente insomma però ecco questa era per capire come mi hanno accolto anche avete ricevuto messaggi da qualcuno della squadra o io ho letto soltanto appunto Rettivic che ha fatto una dichiarazione e mi sembrava molto contento per esempio di di allenarsi con voi. Chiedo a entrambi magari se quale consigli sia Francesco. Sì è anche io ho dei dubbi che di come venisse accolta in in Russia la la proposta invece è stata accolta molto bene anche gli atleti hanno subito risposto positivamente e quindi come per noi è una bella opportunità anche per loro di potersi confrontare questi sei mesi estivi autunnali per per vedere come si può migliorare perché anche loro evidentemente vogliono migliorare per arrivare a livello dei norvegesi che che per adesso sono ancora a parte Volshunov i dominatori di questo sport. È già nato è già un altro classico gruppo di whatsapp di ogni squadra dove ci si presenta e in attesa del primo raduno che sarà a metà maggio ci si l'allenatore inizia a dare le informazioni per 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 poter iniziare la la preparazione. Quindi hai imparato in russo? Ma ogni tanto scrivono anche in cirillico però pian piano probabilmente quando vogliono dirsi le cose da non farle capire il problema è che ormai c'è il c'è google translate esatto no scherzi a parte scrivono in inglese tutti anche perché l'allenatore è tedesco quindi con loro parla in inglese e quindi diciamo che il gruppo dei russi quello un po' più internazionale perché comunque sia oltre ad avere l'allenatore tedesco si allena anche sempre sulle alpi diciamo che le località in cui ci alleneremo saranno le stesse in cui ci siamo sempre allenati cambierà qualcosa nel metodo cambia qualcosa nel nel lavoro diciamo di gruppo e cambia qualcosa perché i tempi dello stare assieme sono un po più lunghi e fanno raduni un po più lunghi quindi è più lungo il confronto durante durante tutto l'anno tutta l'estate non non soltanto nei periodi di raduno ma diciamo in toto in italia ci alleneremo anche in italia a la vazzè è previsto un lungo periodo però c'è in autunno c'è la valsenales adesso si parte con con ramsau dove andiamo molto spesso per poi andare in norvegia dove anche gli anni scorsi stavamo l'anno scorso no ma quelli prima stavamo anche due tre settimane pure noi quindi bene o male la preparazione non non sarà troppo diversa per quello che è le località ecco cambierà un po di di metodo di viaggi e quant'altro e con questo hai risposto un messaggio che poi avrei proprio letto che appunto ci diceva ma sarà questo allenamento con i russi c'è cosa vi comporta vi trasferirete lì sempre i russi non hanno quasi allenava in isolaccia mi sembra ecco poi quindi mi ha già risposto insomma forse in realtà i raduni saranno quasi tutti appunto proprio anzi saranno tutti in europa tra alpi scandinavia anche ecco quindi questa già prima notizia però ecco tornando francesco una cosa che molti hanno scritto così qualcuno l'ha letta quasi come una fuga no la vostra scelta di allenarvi con con la russia cosa rispondi ma più che una fuga io la vedrei come se vogliamo paragonarla a una fuga di cervelli io la vedrei più come un master internazionale in cui vai impari cerchi di dare il tuo meglio di imparare tutto quello che puoi di fare la stagione migliore durante questa olimpiadi di pechino e poi di tornare il prossimo anno in italia il prossimo anno già già novembre saremo con la squadra italiana durante le gare non non sarà molto diverso dal solito l'inverno e quindi riportare in italia una esperienza che abbiamo maturato in questo un'esperienza internazionale che ci aiuterà spero a impostare un nuovo quadrienne olimpico con qualche novità qualche spunto e con tante cose che in ogni caso impareremo perché a vivere a stretto contatto con atleti così forti e un allenatore di così tanta esperienza internazionale che ha allenato diversi atleti che hanno ottenuto risultati veramente importanti sicuramente abbiamo solo da imparare poi certo vedremo come come andrà tutto però credo di che avremo la possibilità di riportare in italia tante esperienze che e tante certezze perché per adesso si parla tanto magari ci sono tante domande su che cosa si fa all'estero che cosa si potrebbe fare di meglio cosa facciamo già bene questa sarà una risposta a tante domande ecco un'altra critica che credo avrete letto magari anche voi in in questi giorni che è stata posta riguarda il fatto di sapete comunque siete i due che in questi anni hanno ottenuto da anni ottengono i risultati migliori per l'italia e si dice manca se vanno via manca una guida per per i più giovani faccio l'esempio magari ecco della francia che magari ha un magnifica e dietro di di lui crescono la pierre la palù e gli altri no ecco federico non trovi magari questa scelta può essere un problema per i giovani o tu credi che non sia così diciamo che questo è un punto sul quale mi sono soffermato tanto anch'io a a pensarci c'è da dire però che a differenza della francia che dal 2014 ha fatto praticamente tutti i grandi eventi una medaglia in staffetta se andiamo indietro nel tempo l'ultimo podio non firmato diciamo anche solo podio in copro del mondo non firmato da dei febbiani o da pellegrino magari anche assieme a qualcun altro vedi nocler dobbiamo risalire al 2015 quindi a sei stagioni fa è un po di clara sul cermis ecco quindi vuol dire che già non è che da l'abbiamo scoperto quest'anno di essere i punti di riferimento di questo ambiente anzi lo siamo già da tanti anni qui viene una riflessione invece mia personale e ho iniziato a pensare a dire ma forse non è che magari può essere pellegrino il problema di questo sci di fondo italiano visto che a volte è arrivata anche questa questa voce non solo dall'esterno ma ma anche dall'interno e allora è lì che anche ho pensato che forse poteva essere l'occasione anche per chi rimane e soprattutto per chi rimane non sto parlando solo di 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 atleti ma soprattutto anche dei tecnici di poter dimostrare il loro valore anche senza avere quello che è stato il punto di riferimento in tutti questi in tutti questi anni comunque sia c'è da dire che come abbiamo detto prima sono sei mesi in cui non ci alleneremo con gli altri atleti di questi sei mesi generalmente si passano dieci giorni al mese in raduno sono 60 giorni su 180 in cui gli atleti diciamo più giovani non potranno allenarsi con noi non penso io penso che gli atleti siano forti abbastanza per fare l'estate al meglio come hanno sempre fatta e anzi magari saranno anche grazie a questo ancora più stimolati loro e i loro allenatori nel cercare di fare di più o meglio fare meglio che la cosa che di cui c'è bisogno per poi arrivare in autunno e scannarci magari anzi fare un po di rivalità anche tra di noi che aiuta sempre ecco sempre detto che aspettavo qualcuno che mordesse le caviglie spero che una mossa una scelta così importante possa far svegliare diciamo così quella cattiveria giusta cattiveria agonistica dei nostri giovani per per mordermi le caviglie ecco poi c'è anche da dire che appunto quest'anno i risultati l'anno scorso è stato questa è stata una stagione molto impegnativa per il covid è stato l'anno del distanziamento sociale quest'anno abbiamo deciso di fare un sacrificio come squadra maggiore allenarci tutta l'estate praticamente assieme alla squadra minore ai giovani purtroppo d'inverno però non si sono visti i risultati sperati e questo mi ha un po rattristito personalmente e quindi il miglioramento diciamo da parte di dei nostri storici compagni di squadra salvadori e rastelli non si è visto nel senso che loro hanno comunque dato il loro meglio e i loro risultati però si sono sempre sono stati in alcuni casi molto buoni però sempre su quello che è il loro livello e i giovani invece non hanno fatto quel salto in avanti che si sperava facendoli allenare ancora più stretto contatto con noi quindi ci può stare un po per tutti un bello stimo si poi magari anche tu lì no visto che hai detto che non sai se tu stesso poi se sei un buon punto di riferimento mi sembra che hai detto anche questo no come se l'hai messo un po in dubbio magari puoi vedere lì se qualcuno di loro c'è anche vedere all'estero magari come si può essere un buon punto di riferimento no puoi trarre spunto anche su questo ma io penso che l'esempio migliore che si può dare è cercare di essere fare al meglio il proprio e poi gli altri se hanno l'intelligenza di provare a rubare qualcosa da te e ripeto non parlo sempre solo degli atleti ma anche e soprattutto degli allenatori se pensano di poter prendere questo punto da come un atleta che vince medaglie e gare di coppa del mondo ben venga poi se mi chiedono io non ho mai detto di no a due parole con nessuno anzi io sono uno che parla anche fin troppo lo stiamo vedendo anche adesso quindi sono sempre a disposizione lo sarò ancora non è che sono divento noi non cambiamo colore della tuta noi continueremo a correre per l'italia però anzi cerchiamo in questo modo di poter ampliare un po il know how del dello scilifondo italiano ecco a proposito di di questo francesco ecco pensi che questa esperienza possa però tu hai detto andiamo via magari appunto fino a novembre no perché poi ovviamente dall'inizio della coppa del mondo starete nuovamente con la squadra italiana credi che possa questo portare qualcosa anche all'italia pensi che questa vostra scelta porta un vantaggio solo a voi o credi che possa cioè tu puoi dopo questa esperienza dare qualcosa anche agli altri a chi è rimasto ora in italia sì io credo che da un'esperienza così impareremo tanto e credo anche che il prossimo anno anzi sicuramente ci sarà una riorganizzazione perché ci sono come ogni quadriennio alla fine di ogni quadriennio ci sono le elezioni federali e quindi bisognerà riorganizzare il quadriennio in funzione delle olimpiadi che questa che quella volta saranno in italia e quindi sarà importante impostare bene un quadriennio e non finire come siamo finiti adesso cioè senza un direttore agonistico al primo all'inizio della stagione più importante che è la stagione olimpica quindi quello che mi auguro è che imparando e vedendo come funziona anche l'allenamento ma non solo l'organizzazione all'estero riusciremo a trasportare qualcosa anche in italia per organizzare al meglio il prossimo quadriennio che sarà importantissimo soprattutto per i giovani perché come ho detto più volte mi piacerebbe tantissimo poter partecipare alle olimpiadi in italia ma come sappiamo nortuga a 33 anni non è arrivato a fare le gare quindi non lo so vedremo e questo è una cosa che il tempo solo il tempo potrà dire però questa esperienza credo che avrà un ritorno non solo per noi magari per noi più immediato e lo spero vivamente nella prossima stagione e per gli altri più avanti con la nostra esperienza di ritorno da questa opportunità che è capitata quest'anno che credo che sia più unica che rara e quindi cercheremo di sfruttarla al massimo quello collegandosi appunto al discorso di pellegrino poi io insomma alla fine ecco magari una cosa che ricorda in lontananza un po' a quello che avviene da alcuni anni con l'italia nel senso che da noi eh si allena da anni proprio con il tuo ex allenatore con Stefano Saracco eh chi sta regalando tante vittorie alla Slovenia Anna Maria Lampic ecco per chi ha sentito decantare tanto quel modo di di approcciarsi al all'allenamento alla preparazione eh esattamente la stessa identica cosa quindi quello che faceva alla Lampic con la squadra italiana e con un allenatore italiano noi lo faremo con un altro team straniero e con un allenatore straniero ecco in sostanza è proprio esattamente la la stessa identica cosa la Lampic facendo così ha vinto medaglie mondiali e quest'anno la coppa del mondo sprint quindi speriamo che 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 vada bene anche noi anzi non speriamo ci crediamo veramente allora intanto eh io leggo anche avete vari inviti a varie gare Giorgio Tonietti che peraltro è Sciclub eh da da Subiaco insomma comitato laziale che vi invita alla gara di Coppa Italia di Schirolla da Matrice che sarà la gara che aprirà la stagione a a giugno gara peraltro anche molto importante perché rientrerà in un festival proprio di di rieti avete l'invito per sovere praticamente vi stanno non avremo quest'anno non avremo troppo tempo per per cose extra già nel 2018 comunque ehm avevamo sacrificato alcuni eventi alcuni eventi estivi non eravamo andati in Norvegia avevamo fatto un po' di una preparazione leggermente diversa in funzione del dell'olimpiade quindi era andata bene lì quindi vedremo quest'anno però appunto non 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 avremo troppo tempo a disposizione tra quando torneremo a casa torneremo a casa per riposarci ecco anche se poi forse ecco può essere visto che dovrebbe essere campionato italiano se viene confermata la gara di Anter Selva no? Il Summer Cross Country quello potrebbe essere se è campionato italiano no? Beh ma diciamo che che nei dettagli non siamo ancora scesi ah ok ecco ovviamente al primo raduno approfondiremo tutto per adesso abbiamo cercato di organizzare al meglio quello che che si poteva ma diciamo che tutta la parte di programmazione estiva nei dettagli la vedremo al primo raduno quindi parleremo anche di questo e avremo delle risposte probabilmente a fine maggio primo raduno mi confermate avete detto metà maggio? Sì dal 17 maggio a Ramso ok 17 maggio a Ramso questa la chiedo a entrambi però ecco anzi comincio magari da da Francesco eh come ha reagito io perché mi chiedo anche avrete parlato anche con gli allenatori no? Di di questa di questa vostra idea quindi visto che negli ultimi anni vi allenava Stefano Saracco come ha reagito quando gli avete detto che sareste andati poi in in Russia cioè in Russia scusate ad allenarvi con Kramer se no sembravate Rocky sì allora Steo l'ha presa bene perché secondo me come ho già detto prima lui e Kramer si sono conosciuti e si stimano e anche per questo ci siamo allenati più volte assieme in questi anni e direi che lui era abbastanza contento e di di affidarci a una persona di cui si fida che è Kramer che che credo che abbia tutta la sua stima per poter poterci portare a migliorare ancora eh Federico tu stessa cosa? Beh avete parlato insieme immagino sì sì eravamo assieme eravamo assieme diciamo che io e Franci passiamo tanto tempo assieme e lo abbiamo sempre passato e lo passeremo ancora di più quest'anno e tutto questo tipo di scelte sono sempre scelte idee magari che vengono in mente a uno all'altro ma poi condivise chiacchierate di quel periodo dopo il periodo dopo la le finali in Engadina siamo rimasti lì a allenarci una settimana e eravamo in camera assieme abbiamo chiacchierato tanto e e assieme abbiamo pensato di di a questa a questa cosa e non è non è neanche nata quest'anno perché comunque la pulce nell'orecchio me l'aveva messa qualche anno fa eh Gregorio Paltrinieri mio collega delle delle fiamme oro eh che che quando mi raccontò eh in un aperitivo a Livigno mi raccontò della sua esperienza in Australia lui anche si staccava dal suo team di di Ostia eh dove si era sempre preparato si era sempre allenato aveva avuto eh grandi grandi risultati e però si è staccato per andare a prepararsi anche lui sei sette otto mesi non mi ricordo più quanti in Australia assieme a un altro atleta molto forte e di fatti l'ho anche chiamato per 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 chiedergli anche lui un parere di questa cosa e chiedergli cosa mi sarei dovuto aspettare gli ho detto farlo perché se ne hai l'occasione non tutti gli atleti hanno l'opportunità di di potersi confrontare con altri atleti di alto livello e e se ce l'avete voi questa opportunità sono sicuro che 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 anche solo per il fatto che potrai vedere il tuo mondo con occhi diversi diciamo così dall'esterno sarà sarà molto utile quindi eh l'idea partita già era nella nostra testa già da tanto tempo ne abbiamo parlato anche più volte anche con Steo eh negli anni e diciamo che questa era l'unico modo per poterla mettere in pratica nel senso che alla fine questo è un piano B perché il piano A era quello di poter portare a termine il quadrienne olimpico così come l'abbiamo cominciato il il fatto però che nell'ultima stagione ci siano state delle difficoltà eh non da poco e e anche la carenza di risultati da parte in generale di tutto di tutta la la squadra eh diciamo così e le e la mancanza di medaglie e conseguenti di dimissioni di Selle bla 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 eh dovevamo per forza fare un piano B per questo quarto anno per rischiare stando in Italia abbiamo deciso di rischiare provando questa esperienza. Sì peraltro ecco una domanda che che ci fanno è anche questa cioè ti chiedevano proprio questo se ci fossero state le dimissioni di Selle cosa avresti? fatto se cosa avreste fatto? Io tutto l'anno cerco sempre anche quando ci sono delle discussioni o dei bocconi di amari di mandarli giù e rimandare sempre tutto a primavera perché fino a che non finisce la stagione la testa deve rimanere concentrata sui risultati e non per niente abbiamo iniziato a ragionarci comunque sia in engadina eh quando dopo le ultime gare di Coppa del mondo ovvio avevamo ancora gli italiani ma eravamo lì anche per preparare gli italiani eh abbiamo iniziato da sentire un po' come si stavano muovendo come si stavano muovendo le acque nel nostro mare. Ok no per questo anche per per dare spazio anche a chi devo dire ecco è una cosa che visto chi ci ascolta vedo domande anche su Instagram però noi per una cosa anche pratica avevamo scelto di fare le domande esclusivamente da 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 Facebook. Sentite che rischiate di esservi messi più pressione addosso in una stagione importante con questa scelta? Cioè può essere questo l'altra faccia della medaglia? Comincio da Francesco? Sì beh sicuramente ci siamo messi in gioco questo è indubbio però è anche mi sembra anche la scelta migliore per poter pensare di arrivare a a Pechino nelle migliori condizioni per poter puntare veramente in alto. Quindi sì un po' di pressione in più magari c'è però c'è anche veramente una nuova motivazione che che ti spinge a migliorare a confrontarti e a poter imparare molto durante tutte le giornate che passeremo in raduno e che saranno tante. Federico? Ma è come se in questi anni non l'avessimo mai avuta poi alla fine. Parlo anche per me è ovvio che ormai fa parte del gioco e comunque sia nella mia carriera ho fatto tante scelte e già solo il fatto di essermi potuto permettere di farle mi dà la sicurezza per provare per poter dare il massimo fino alla fine per dimostrarmi e dimostrare a tutti che erano delle scelte azzeccate ecco e quindi crediamo molto in questo progetto e testa bassa e poi i conti li faremo a fine stagione. Tanto Katia Coltori ci ricorda che anche Arianna Fontana si era allenata e anche con adesso con l'Ungheria e ecco ci spiegava che anche c'è anche questo esempio che è lo short track. Giusto per finire diciamo che c'è il confronto con altri atleti c'è c'è sempre nel nostro mondo c'è sempre stato comunque sia quando spesso si fanno dei test assieme soprattutto in un turno soprattutto quando ci si trova nelle stesse località ad allenarsi più volte mi sono allenato con ci siamo allenati anche con gli americani diciamo che quando abbiamo tastato un po il territorio anche in Norvegia abbiamo avuto un bel riscontro da parte di certi atleti non da parte di tutti a Trondheim abbiamo fatto un periodo di due settimane su due settimane abbiamo fatto qualche allenamento con Tönset con Iversen con qualche long distance con Klaebo alla fine due settimane che eravamo a fatto forse una sfida rigori per me è andata male purtroppo e quindi diciamo che la scelta doveva essere orientata verso altre altre nazioni. Ecco io non so se si può dire perché ancora ovviamente ci verranno altre persone italiane con voi? ci saranno altre italiane. Ok perché ovviamente ancora credo che deve uscire forse l'ufficialità credo fisino però ecco probabilmente potrebbe potrebbe esserci e allora l'ultima cosa Federico sarà la stessa domanda presente a Federico perché ritiene che se per Francesco e Fabiani questa è una bella occasione ecco perché per Federico Pellegrino è una bella occasione per De Fabiani? Secondo me perché è una bella occasione per lui? Sì. Ma per lui sicuramente è una grande occasione soprattutto anche in vista del futuro perché ha tre anni in meno di me e quindi ha sicuramente più più anni più stagioni nelle gambe anagraficamente parlando di me e quindi ha più probabilità di portare avanti il suo percorso e queste contaminazioni dall'esterno non soltanto per vedere qualcosa di nuovo da fuori ma anche perché da fuori magari vedi quanto di buono c'è da noi perché comunque sia se qualche risultato è arrivato è anche perché di buono c'è anche da noi non è che stiamo buttando merda su tutto il sistema semplicemente è un abbiamo bisogno di essere stimolati andando a cercare qualcosa in più fuori e secondo me per Francesco questo può essere veramente un ottimo modo per arricchire il suo bagaglio di esperienze e non porsi limiti verso il futuro perché quello quello soltanto alla fine fine carriera ci sa dire qual è il nostro qual è stato il nostro reale valore prima di arrivare a fine carriera tutto può succedere questo è un bel messaggio Francesco anche da parte di Kiko al contrario secondo te perché questa è una bella opportunità per Federico ma per Federico sarà una bella opportunità perché potrà confrontarsi con allo stesso tempo con uno dei più forti sprinter che ci sono stati in questa stagione sto parlando di Rettivik ma allo stesso tempo con Ustio che sia uno sprinter che un distance quindi una persona un atleta molto completo e secondo me può trarre molti spunti da lui per magari in futuro non so magari non questa stagione che c'è ancora le olimpiadi una sprint importante però in futuro potrebbe diventare più completo e trovare a provare a partecipare più spesso anche alle gare distance perché come come sappiamo non non è proprio scarso perché tante volte ha dimostrato di essere di potersela giocare per arrivare nelle prime posizioni anche nelle gare distance Io ho detto poi magari ci sarà occasione anche per parlare della stagione d'altro in questo caso proprio una diretta apposta proprio perché volevano entrambi avere anche un po' l'occasione di di spiegare le motivazioni della loro scelta cosa c'è dietro aver poi puntato proprio su 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 cramere insomma quindi avevano volevano a giustamente anche loro due avere uno uno spazio anche noi eravamo interessati a sapere insomma un po' il il loro punto di vista visto che appunto in questi giorni se ne è parlato tanto e quelli che avevano parlato meno erano i tuoi diretti interessati quindi era pure interessante un po' adesso abbiamo parlato forse anche troppo ecco dai allora io adesso vi saluto allora comincio magari con il ciao ciao a tutti salutiamo noi ecco sì perché poi sarà difficile chiudere la diretta su su instagram a chi ci ha seguito da instagram ok e allora un saluto sia a federico che saluto di nuovo a chi ci ha seguito da